Formalmente sarebbe stato tutto regolare, uno stipendio che prevede malattie pagate, indennità e altre voci quali gli 80 euro del bonus Renzi. In pratica invece si doveva restituire una cospicua parte di quanto percepito, guadagnando in realtà uno stipendio mensile di circa 500 euro. E al sistema i dipendenti ci dovevano stare, pena la perdita del posto di lavoro. Questa in sintesi la presunta vicenda che vede coinvolto l'imprenditore agrigentino Fabrizio Lagaipa, 42 anni, primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle agrigentino alle ultime regionali, per il quale sono scattati poco più di due settimane fa i domiciliari con l'accusa di estorsione. A firmare l'ordinanza cautelare e il divieto di dimora per il fratello Salvatore Lagaipa, 46 anni, socio dell'attività di Fabrizio, ma coinvolto in misura minore nella stessa inchiesta, il GIP Stefano Zammuto. Proprio davanti allo stesso giudice si è celebrato questa mattina l'incidente probatorio che ha riunito nella stessa aula del Tribunale i due imputati e i due ex dipendenti dell'albergo Costa Azzurra gestito dalla Gaipa, da cui sono partite le accuse. L'udienza a cui hanno partecipato anche i PM ed i legali di entrambe le parti è durata oltre tre ore. Si è trattato di una sorta di anticipazione del dibattimento per raccogliere delle testimonianze, per poi poterle utilizzare come prove durante il processo. E i due ex dipendenti in aula hanno confermato le accuse nei confronti di Lagaipa, descrivendo il meccanismo della restituzione di parte dello stipendio che percepivano. Decisive nella fase investigativa sarebbero state delle registrazioni audio effettuate di nascosto con il cellulare da uno degli ex dipendenti dell'imprenditore. Nei file audio, pare, si senta a discutere proprio dei termini e delle cifre da decurtare alla busta paga e da restituire.